Mazzette consegnate a funzionari pubblici per superare concorsi nei vigili del fuoco, nella polizia, nei carabinieri e nella Guardia di Finanza. Tre persone in carcere, due agli arresti domiciliari ed altri cinque sottoposti ad una serie di obblighi, tra i quali anche l'interdizione lavorativa dai pubblici uffici. 118 le persone indagate. Sono questi i numeri imponenti della maxioperazione della Guardia di Finanza di Benevento, scattata questa mattina nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Sannita. I sottoposti alle misure cautelari sono quasi tutti pubblici ufficiali che hanno percepito, secondo l'accusa da candidati di concorsi pubblici o dai loro genitori ingenti somme di denaro per determinare gli esiti e così far accedere i predetti concorrenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato e nelle altre forze dell'ordine. Tra le persone sottoposte a misura cautelare tre funzionari dei Vigili del Fuoco di Benevento e un vice prefetto con funzione apicale presso il Ministero dell'Interno, proprio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Un militare dell'arma dei Carabinieri è un finanziere, oltre che anche un agente della Polizia di Stato. Per tutti l'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata la corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. Sono 50 al momento gli episodi finiti nel mirino della Procura di Benevento, sequestrati dalle fiamme gialle e somme di denaro pari a 370.000 euro, ritenuta la cifra dei reati finora accertati. Durante le perquisizioni effettuate questa mattina dalla Guardia di Finanza sono stati sequestrati 156.000 euro custoditi in un armadietto all'interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri 45.000 euro nell'ufficio del prefetto a Roma.